ehi la giurma io sono mazzatess e ben ritrovati qui su expeditions rom ci siamo lasciati con un combattimento in corso allora qui sono altro questi fanno dell'armor shred e lui ha armor però più che fargli fare al lui ha questa piercing ed ha bleeding ah però no vabbè facciamo così tu julia riesci perché a fare un doppio ah no no non lo secco potrebbe seccare questo proviamoci con l'altro orcere va no non lo vede neanche l'altro ah facciamo fai un aimhead qua ottimo julia ti avvicini da qua lo vedi? bravissimo uno e uno no caperi vai qua e prendi un pila un pilum tu muoviti tu ah è già la torcia ok questa è già la torcia non lo mettiamo qua chi è che rimane con lezioni? che però vabbè ci sta lui può lanciare il pilum su questo e seccarlo ma il pilum lo terrei su quelli che sono armati aspettiamo va bene no non facciamo uno slash con lui usiamo aspetta questo che sta arrivando è scudato sì e farei allora così vadi no aspetta questo riesce a picchiarlo sì bene julia da qua lo vedi? no da qua sì quello è un pedina è una pedina inutile beh sì allora farei un aimhead su questo brava e un altro su questo benissimo e allora altri non stanno arrivando vero? sai che sono fermati tutti là? allora ce n'è uno qua su e ce n'è quattro là dove c'è il loro leader sarebbe interessante muovere in questa direzione però se muovo in quella direzione poi mi vengono addosso di sicuro allora farei che questo avanza visto che hai pila ah ci sono degli arcieri no sono tutti scudati no scudati sono tutti fanti questa è la torcia per cui niente lo muoviamo qua e questi li farei tornare indietro se si riuscisse ma non si riesce tu avanza qua e tu qua ancora dei punti lui e lui no va bene sapevo che mi avrebbero colpito il tizio mi vengono incontro cavolo questo potrebbe essere un problema allora intanto direi che no c'è il tizio in mezzo ai piedi se faccio il coso mi da malus oh dai fuoco a quello prende un pilum ma lo ha già usato l'attacco vai qua lancia un pilum ah e poi non c'arriva porca pupazza Giulia tu da qua riesci a seccare quello dovrebbe quello non è la scuola se gli do del sanguinamento non gli ha dato neanche il sanguinamento perché c'è troppa armatura porca pupazza prendi un pilum riesci no non ancora da qua si lui questo è quello che ispira per cui allora se io ispirassi Giulia Calida ma quello ha comunque troppa armatura quanti pila ci sono ancora due due Giulia riesce a prenderlo brava però non può rifare la sensazione lui ha delle cure no no prendi la torcia nel dubbio che male non fa chi è che ancora è lui ma che cavolo può fare niente no si è preso a attacca l'opportunità uguale aia e niente l'arcere è andato no quello c'è ancora un fracco di armatura ah quello è in cover quello vai vai su quello col fuoco Giulia prendi un ilum questi non hanno shred questo se ne va si piglia da niente ci avrei scommesso ma cosa potevo fare di altro da 0 a 3 porca pupazza questo fa da 0 a 3 uguale 6 a 9 e con il doppio buono molto buono ci proviamo se uno dei due entra yes ah no dobbiamo proprio seccarlo seccarlo vai ottimo moderate injury vabbè adesso la mettiamo in infermeria abbiamo scoperto come come sistemare dai ce la siamo gestita abbastanza bene nonostante tutto mi ha fatto un errore a mettere l'arcere là perché mi ha detto tanto non ce lo colpiranno invece un corno l'hanno colpito di brutto perché avevano i pilum e non ce li pila e non abbiamo non ci abbiamo pensato cioè non ci ho pensato sono stato un po' stupido da quel punto di vista ce la fai? bene ok un'altra cassetta qua su qua su ah e poi ci sono due tizi laggiù e fine andiamo dai due tizi laggiù quello era super armato tra l'altro il problema è che solito i ari fanno armor shred se non abbiamo dei pilum dovrei equipaggiare iulia con delle robe di piercing cioè di pila qua grazie grazie ottimo ho preso anche questo allora legend mission questo ci dà degli schiavi e può servire parecchio a questo lumber mill ah lumber mill ci dà degli degli schiavi e 50 vai ecco i miei pippolini torno indietro per legge victrix che non è la nostra però abbiamo comunque i nostri mini vabbè chi mettiamo uno che ha una buona possibilità di sopravvivere questo direi c'è un po' di insubordination rischio ma proviamoci per questo archeum latius extendete speriamo di farlo scendere sotto il lo scatter in modo da toglierceli dai piedi meno 26 ottimo ottimo triari e scudo infantry buono lo scudo è entrato buono ahia è perché il cavallo ancora non l'ha sbloccato sono pronti sono pronti eeeh vai buono siamo sotto lo scatter attento sta usando la nostra legione anche se non è là cioè questo è il manpower che abbiamo noi mi sa es più loot range perché quanti ne perdono loro ormai tanto non è un problema sono sotto lo scatter per cui aia arco e carro buono aia eeeh vadi non ha senso prendersi dei rischi visto che cavolo dai abbiamo perso tutta sta gente per una menata così meno 5 morale perché meno 4-3 manpower siamo messi per uno male dal punto di vista delle battaglie le regioni tra l'altro vedo adesso che la mia faccia è proprio in mezzo ai piedi quanto c'è la combattimento è tanto che ci siano informazioni tanto importanti che ci sono solo i disegni dell'amino che sono lo scudo e il cavallo abbiamo perso 1200 tis ne avevamo 4000 fino a un attimo fa e sarebbero indemizzati praticamente aumentiamo il morale esaltare tanto gli altri li abbiamo distrutti completamente non ha senso nientargli ne ancora e salito di cavallo e quello è al massimo ha sbloccato il carro bravissimo 3 denari uno schiavo 6 razioni va bene e abbiamo preso anche il lumber mill sì noi stavamo tornando qua per l'appunto c'è un tizio ok oh bene mi hai trovato hai un messaggio per me no la traccia si è schierata con Mithridate va bene va bene va bene d'accordo eeeh oh come la misia ci stanno attaccando la misia adesso ah no il combattimento che abbiamo fatto era per prendere il il lumber mill quindi non era quello di misia che abbiamo fatto adesso e lasciamo che la legione si ripiglia un pochettino e andiamo a parlare con il culo nel mentre allora andiamo a sistemare il tizio che non sta tanto benino che si è fatto un po' malino l'arciere cioè inoltre l'abbiamo mandato in missione suicida perché occupava una casella possiamo già fare da qua ma in dispensary grazie eeeh abbiamo bisogno di barracks forse mettiamo un tizio ce l'avevamo un tizio da barracks no forse era lui togliere un attimo no non avevamo un tizio che era recruiter lui ma non era solo lui o si boh vabbè speculator tent replenish non abbiamo già replenishati adesso possiamo craftare gli oggetti abbiamo un tizio bravo nel crafting lui e anche questo mettiamo lui fa degli oggetti di tier 1 allora qua questo ci serve si può essere un iron mine e qua due fattorie e una tannery va bene eeeh nulla va si gestiranno in un altro momento eeeh outpost management cosa che c'ha upgrade ma cosa che ha di nuovo di upgrade ah può fare le palizzate ok ma vogliamo le palizzate adesso ci costa un lumber mill no meglio il workshop scusami meglio il workshop e questo ci dirà vai da l'oculo niente vabbè diciamo che per questo episodio può essere anche tutto ci vedremo nel prossimo episodio in cui vedremo che cosa vuole l'oculo da noi ciao a tutti buona giornata